You are very welcome to our YouTube channel of Camerata Mandolino Classico, a channel for lovers of baroque and classical music, on YouTube. Benvenuti al nostro canale della musica ed animazioni. Vorremmo presentare musica di Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven e musica francese dal Settecento. Ciao a tutti. Hello, everybody. Buon ascolto. Please enjoy. Signore e signori, vorremmo suonare un bellissimo duetto del maestro Antonio Vivaldi. È un amoroso andante, amabile, da un concerto per due mandolini. Abbiamo fatto un versione per clavicembalo e mandolino. Spero la piace. Stiamo suonando questo brano musicale. Per il nostro amico. Jean-Baptiste Verilio, francese, che ci viene a trovare. Qui a Venezia, durante il carnevale. Signore, per favore, vai a destra e poi dritto. Lo trova facilmente. J'espère que Magdalena est ici ce soir. Je vais montar. Buonasera, signore. Per favore, vai di sopra. Dove troverai la sua morena? Oh, je suis nerveux d'ouvrir la porte. Benvenuto. Buonasera, signore. Sono molto bene. Que bellissimo, manodolino. Buonasera, signore. Buonasera, signore. Buonasera, signore. Oh, buonasera. Buonasera, signore. lei è laggiù enfin je t'ai trouvé ma très chère Magdalena oh caro Gianni che bello finalmente tu sei qui per favore vieni con me oh amore mio baciami je t'aime quel bonheur de rester avec vos ah Gianni amore mio ah 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 Grazie a tutti per aver guardato il video. You are very welcome to listen to great music by Vivaldi, Bach, Mozart, and Beethoven, as well as French music from the 18th century. See you soon again. Please have a nice day, Camerata Mandolino Classico. Grazie. Arrivederci. Ci vediamo fra poco. Alla prossima.